Saremo tutti d'accordo che l'attenzione di questo primo panel sarà focalizzata su un modello di maschilità che è stato definito come maschilità subordinata, per cui parleremo di uomini gay, soprattutto di uomini gay, ma parleremo anche di come la maschilità gay incontri la maschilità egemone, la sfidi, ma inevitabilmente diventi corresponsabile della riproduzione di alcuni meccanismi di egemonia e di dominio e proveremo a trattare questi temi molto complicati attraverso il concetto di cittadinanza intima e sessuale che è un concetto molto utile ma al tempo stesso molto scivoloso, è un concetto che ha permesso di svelare una delle più grandi mistificazioni, cioè che il cittadino non ha corpo, che la sfera pubblica è costruita indipendentemente dai corpi, ma noi tutti sappiamo che invece non è così, che il legame tra ciò che è pubblico e ciò che è privato è un legame molto stretto e questo legame è stato discusso, criticato, problematizzato attraverso l'uso del concetto di intimate e sexual citizenship, però sappiamo anche che nel momento in cui la cittadinanza diventa uno strumento per la mobilitazione politica c'è sempre il rischio di riprodurre le egemonie che vengono criticate, per cui cercheremo di discutere questi temi molto insisto, molto complicati con tre interventi, il primo è Ottavio Salazar, è un professore di constitutional di diritto costituzionale all'università di Cordoba, poi avremo Tatiana Motterle, poi vediamo l'ordine, che è una giovane ricercatrice, dico giovane ricercatrice perché lo dicono sempre a tutti, adesso tocca a te, giovane ricercatrice, lavora a Coimbra in Portogallo all'interno di un progetto che si chiama Intimate, giusto? Diretto dalla professoressa Santosh, scusami, Maria Cristina Santosh, e poi abbiamo Cirrus Rinaldi che è un giovane ricercatore di Palermo, un caro amico, caro collega di Palermo e tutti e tre cercheremo di discutere anche criticamente questi legami tra ciò che è subordinato e ciò che è egemone, per cercare di capire cosa accade in Spagna, cosa accade in Italia e cosa accade nelle varie Italie, nelle diverse Italie. Io credo che ci organizzeremo così, relazione, poi due minuti per raccogliere domande alle quali risponderemo alla fine delle tre relazioni, così forse riusciamo a tenere sotto controllo il tempo. Per cui Ottavio Salazar, prego.